Tutte queste tagliatelle ritagliatellate fatte in casa, belle, porose, con bistecca ribistecata, ossata, guarda quanto è bella, che dieta è? Quella che mi vuoi cazzo mio! E poi? E proprio di da pancrello! No! Arzughe? Guarda come mangia, guarda come arzuga, guardalo, guardalo! Attenzione, questa ve la devo raccontare, dopo la palestra si mangia le tagliatelle con la bistecca, incredibile, mai vista una cosa del genere, è pronto per arzugare, eccolo! Guardate che arzugata lunga! Per ora il piatto è vuoto, poi? E poi? E poi la riempio! E dopo? E poi mi mangio! E poi? E dopo da già fanculo! Ma un'altra volta? Sì! Perché? Vuole il patè? Vuole il patè? Per lui, per me, patè! E come spalma? E sta fermo, scemo! Ma guarda quanto ce n'hai messo! Ma che cazzo te prega! Leveni un po', dai! Ma tu hai parlato? Leveni un po'! Arzughe! Leveni un po'! Dai, io confio! Ma quanto sei cattivo! Arzughe anche il patè?